Il sogno scudetto dell'equipo Orizzonte Catania si ferma all'ultimo atto delle Final Six. Le ragazze di Martina Miceli cedono per 7-5 alle campionesse in carica del plebiscito Padova, confermatesi sulla vetta d'Italia. Una sconfitta amara per le etnee che non sono riuscite a replicare la brillante prestazione messa in basca nella semifinale vinta contro la Waterpolo Messina. Amarezza rinforzata dalla sensazione che sarebbe bastato poco di più per provare a scalzare le venete, neanche loro irresistibili. La gara del Poggiolino di Rapallo si tiene costantemente in equilibrio nonostante Padova provi subito ad accelerare con Barzon a rispondere in casa Orizzonte e l'infinita Tania Di Mario che sigla il momentaneo 1-1. Le patavine ritrovano il vantaggio al tramonto della prima frazione con Ilaria Savioli per il 2-1. Nel secondo tempo lo spartito si ripete, plebiscito in rete, Orizzonte ad accorciare stavolta con la Garibotti e nuovo a lungo Padovana con l'altra Savioli-Martina che firma il momentaneo 4-2. Il terzo tempo doveva essere quello della rincorsa catanese ma le siciliane non riescono ad accorciare le distanze e così Padova a trovare un nuovo a lungo ancora con Ilaria Savioli che porta il match sul 5-2. Gli ultimi 8 minuti vedono ancora il plebiscito in avanti con la seconda rete di Barzon che mette a referto il 6-2. La partita potrebbe considerarsi chiusa ma l'orizzonte si sveglia e trascinato da Monica Eggens si arrampica fino al 6-4. La rincorsa etnea viene però smorzata dalla settima rete padovana di Galardi. L'equip avrebbe anche l'occasione di accorciare subito grazie a un rigore a favore ma Arianna Garibotti si fa ipnotizzare dalla Teani sprecando l'occasione. Chiude la contesa la rete di Tania Di Mario che a 1 minuto e 10 secondi dalla fine realizza la sua ultima rete con l'orizzonte salutando così la calottina del club con cui tanto ha vinto. Nel post partita il capitano rossazzurro commenta positivamente la stagione dell'orizzonte. Ribadisco che abbiamo raggiunto l'obiettivo di quest'anno ha detto la Di Mario anche se è un peccato perché oggi potevamo fare realmente di più. Spero davvero che questa partita ci serva per capire tante cose in vista della prossima stagione. Arrabbiata per l'impresa sfiorata Martina Miceli perdere una finale sapendo che era possibile fare molto meglio fa tanto male spiega la coach catanese. Sono arrabbiatissima e mi dispiace per le ragazze perché non era affatto impossibile vincere oggi. Spero se lo ricordino l'anno prossimo io farò di tutto per farle crescere anche mentalmente. L'orizzonte saluta la stagione dunque da vice campione d'Italia e soprattutto con una ritrovata qualificazione europea. La sensazione è che al netto delle vicende extravasca che hanno privato la squadra della Porto di Carolina Ioannou il collettivo Etneo sia cresciuto soprattutto nella seconda parte di stagione. La finale persa contro Padova sbollita. La giusta rabbia per il risultato sarà piuttosto un solido punto di partenza in vista della prossima stagione in cui il sodalizio Etneo è atteso da un ulteriore salto di qualità anche in campo internazionale.